Lettura del Vangelo secondo Matteo In quel tempo, il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù». Sta scritto infatti «Ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose «Sta scritto anche, non metterai alla prova, il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Egli disse «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano». Pace bene, amici, ben ritrovati a questo nostro appuntamento con la liturgia della Domenica. Prima Domenica di Quaresima, secondo il rito ambrosiano. Le tentazioni di Gesù. E queste tentazioni, che possono essere viste e considerate in modo negativo, di fatto risultano essere consolanti per noi. Veniamo a sapere che anche Gesù è stato tentato, che Gesù ha vinto la sua tentazione o le sue tentazioni, ha sconfitto Satana. E così facendo non ha utilizzato la onnipotenza di Dio, figlio del Padre, prediletto del Padre, ma semplicemente è sceso sullo stesso piano del tentatore utilizzando bene e interpretando correttamente la parola, la parola del Padre, la parola di Dio. Perché Gesù ha vinto la tentazione o le tentazioni tramite la parola del Signore, facendo appello a questa parola, che è una parola di salvezza, che è stata strumentalizzata da Satana, utilizzata in un modo inopportuno e scandaloso, ma interpretata correttamente e diventata ancora di salvezza per Gesù di fronte al tentatore. Ed è bello sapere che anche lui, come lui, è stato tentato. È bello sapere che lui ha voluto condividere la nostra stessa situazione di fatica, di dolore, di sofferenza, di morte, di lacrime e anche di tentazione. Si è fatto in tutto e per tutto uguale a noi, eccetto che nel peccato. ha voluto condividere, ponendosi dentro questa nostra situazione di morte e vincendo per noi, ma anche insegnando a noi come si fa a debellare le astuzie demoniche di Satana. Una seconda riflessione potrebbe riguardare la tentazione in se stessa. Fondamentalmente Gesù è stato tentato di farsi vedere grande, di percorrere la via facile. Che bello trasformare i sassi in pane. Che bello essere accolti dagli angeli quando si trova in un momento di morte, gettandosi giù da questo pinnacolo del Tempio. Che bello dominare sul mondo, guardare il mondo dall'altura di una collina e dire è tutto mio. Ma Gesù ha saputo vincere questa tentazione della via facile, della straordinarietà e ha condiviso in tutto la nostra situazione vincendo come possiamo vincere noi. Debellando Satana come possiamo sconfiggerlo noi. Attraverso la parola facendo sempre riferimento a Dio. E allora in questa prima domenica di quaresima, in questo inizio di cammino penitenziale, proviamo a considerare e leggere, approfondire e ritenere come strumento di salvezza in ogni momento quello che è la parola del Signore. proponiamoci di prendere tra le mani questa parola di salvezza, di leggerla, di approfondirla, perché effettivamente è una spada che penetra nelle oscurità, che vince il male, che ci porta nella pienezza della vita. Pace bene amici e buona quaresima a tutti voi. Grazie a tutti.